Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Allora, Piantedosi, in una interessante e anche secondo me intellettualmente molto onesta intervista col Corriere della Sera di oggi, ripete più di una volta la parola compromesso, che è una parola che in Italia negli ultimi anni nel nostro dibattito abbiamo maltrattato e siamo proprio stupidi a voler essere gentili, perché invece la parola compromesso nei tavoli complessi come quelli europei è una parola virtuosa, perché bisogna mettersi d'accordo tra nazioni che hanno interessi diversi, idee diverse. Mi sembra interessante che si giunga a una sorta di accordo intorno a un principio di solidarietà obbligatoria, il che vuol dire che è passato... Che non sono i rimpatri obbligatori, che è altra cosa, no? No, scusa, i rimpatri, la ricollocazione obbligatoria, la redistribuzione obbligatoria. La differenza che tu fai rende molto bene evidente che, diciamo, solidarietà obbligatoria è allo stato attuale il massimo del compromesso virtuoso cui si può giungere. Però solidarietà è per giunta obbligatoria, non è proprio niente. Secondo punto, lo abbiamo sentito nelle parole di Piantedosi, ed è secondo me il più importante di tutti. Non si tratta di creare un meccanismo o prendi alcuni dei migranti o mi dai dei soldi, stato su stato, ma di metterli in un fondo europeo che poi lo usa per aiutare chi ha più emergenze. Allora, in questo modo, come già è successo dai vaccini alle vicende dell'invasione russa dell'Ucraina, si fa, e io ne sono molto felice, si rafforza un'idea di Europa in grado di intervenire sulle situazioni di crisi. Il fondo europeo, che è figlio della solidarietà è obbligatoria, è un passo avanti dell'Europa, ora lo dobbiamo attuare però, perché infatti e ho finito, Piantedosi nella dichiarazione che abbiamo sentito, dice, istituendo fondo. Quindi adesso bisogna vigilare che quello che è stato buono per la conferenza stampa diventi realtà. Credo che adesso poi il passo successivo è l'Europarlamento dovrà affrontare la questione. È un fatto concreto questo del fondo. Allora ci arriviamo, devo andare in pubblicità.